Buon inizio di settimana a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi quasi tutta l'Italia è tornata in zona gialla, ad eccezione di poche regioni che sono rimaste invece in zona arancione. Tra queste c'è la nostra isola. Ma tra oggi e domani potrebbe esserci la decisione del TAR della Sardegna sul ricorso presentato proprio dalla regione. Ieri il presidente del TAR Dante D'Alessio ha infatti emanato un decreto con cui ha ordinato al Ministero della Salute di fornire entro le 18 di quest'oggi tutti i chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato la permanenza della Sardegna. Per un'altra settimana in zona arancione, anche nel confronto con i dati riguardanti le altre regioni, sulla base dei numeri e dati forniti, il TAR della Sardegna dunque prenderà una decisione. Vedremo chi la spunterà con la regione che nel ricorso ha puntato sul cambio dei criteri di classificazione, venuto a cavallo della metà del mese di gennaio e l'impossibilità per le regioni di adeguarsi a nuovi parametri e la revisione periodica dei requisiti. Ministero e Istituto Superiore di Sanità che invece hanno segnalato la comunicazione dei dati fatta fuori tempo massimo dalla regione. Vedremo nelle prossime ore quali saranno i risvolti con soprattutto il settore della ristorazione che spera che la Sardegna attunni in zona gialla questa settimana che dunque non debba aspettare ancora un'altra settimana, dunque il 7 febbraio o meglio lunedì 8 febbraio. E come sempre vediamo anche i dati dell'ultimo bollettino che ha fatto segnare un calo dei casi di positività, ieri 167 ma anche dei tamponi eseguiti che sono stati 2203, tasso di positività che è salito al 7,5%. Un solo decesso invece che è stato registrato, continua a diminuire seppure di poco la pressione sugli ospedali, 4 ricoverati in meno in reparti ordinari, ora sono 446 complessivamente, mentre è rimasto invariato il numero di pazienti in terapia intensiva che sono 39. al contrario sale leggermente il numero delle persone in isolamento domiciliare, 15.495 più 139 i guariti, oltre a 341 persone dichiarate guarite clinicamente. Oggi è stata una giornata, o meglio è una giornata importante, il 1 febbraio la data che segna il ritorno a scuola per gli studenti sardi e non solo sardi degli istituti superiori. Come è noto non saranno tutti in classe ma solo il 50% al momento, in ogni caso quello di anno rappresenta un ritorno atteso che si spera possa riguardare presso la totalità degli studenti. Sono circa 37.000 in Sardegna coloro che hanno potuto rivarcare la soglia della propria scuola. Si parla di turnazione che varierà di istituto in istituto in base a parametri ed esigenze. Si tratta comunque di una data da ricordare per l'istruzione dopo mesi di didattica a distanza, uno strumento utile in casi come questi ma che a lungo non è sicuramente migliore del fare scuola in presenza. Anche ad Alghero come in tutta l'isola questa mattina gli studenti sono ritornati tra i banchi e proprio in occasione del ritorno in classe al fine di prevenire eventuali situazioni di criticità dettate dal verificarsi di possibili assembramenti. La locale protezione civile sotto il coordinamento della direzione generale regionale ha registrato la disponibilità di diverse associazioni che offriranno il proprio supporto negli orari di ingresso e di uscita delle scuole per garantire attività di informazione, distanziamento e assistenza con riguardo alle misure di sicurezza tese a prevenire e fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto. Alle associazioni Misericordia Alghero, Polisoccorso Alghero, Protezione Civile Olmedo è nato l'ingraziamento dell'assessore Andrea Montis per le operazioni che andranno a compiere proprio in questi giorni sull'informazione in merito alla sicurezza sanitaria. In occasione del rientro a scuola noi siamo andati in uno degli istituti superiori algheresi, il liceo scientifico Enrico Fermi, abbiamo intervistato il dirigente scolastico Mario Peretto. Significativa questa immagine del dirigente scolastico alla porta di uno degli istituti algheresi, stiamo parlando dello scientifico Fermi. Oggi era il giorno del ritorno a scuola per il 50% degli studenti sardi, quindi in presenza. Come è andata? È andata molto bene. Noi, come tutte le altre scuole di Alghero, abbiamo optato per far rientrare il 50% degli studenti, anche se inizialmente pensavamo di farle rientrare in percentuali maggiori, però per i medi di trasporto, che ancora non sono tutti ben allineati, abbiamo preferito andare sul 50%. I ragazzi, come sempre, sono la cosa migliore che abbiamo. A scuola sono sicuri, come entrano dal cancello rispettano le regole, si muovono in maniera assolutamente coordinata e corretta. Quindi speriamo bene, speriamo che sia una riapertura per arrivare al 100% di presenza e dobbiamo stare attenti non solo a scuola ma anche all'esterno. Come cronisti noi testimoniamo ovviamente quello che vediamo. Siamo arrivati qui, abbiamo visto i sorrisi di questi ragazzi che si sono ritrovati. Sorrisi ovviamente non dovuti alle labbra perché non le potevamo vedere, erano tutti con le mascherine ma sorridevano con gli occhi, erano contenti. Sì, per tutti ma anche per gli insegnanti sembra di vivere quasi un sogno, un rientro dopo questi periodi, il periodo dell'anno scorso, questi mesi di quest'anno scolastico. Ripeto, la scuola è importante, è importante per il confronto, è importante per la condivisione, è importante per vederci. È vero che la salute è fondamentale perché se non c'è la salute tutto il resto viene meno. Però dobbiamo stare attenti e fare in modo che l'obiettivo della scuola venga raggiunto e si possa arrivare al 100% in presenza. Quindi, in conclusione, ottima la DAD fatta bene ma la presenza è insostituibile? Assolutamente sì. È vero che siamo riusciti a ottenere molti risultati con la DAD. Io non darei addosso a questo sistema che ci ha consentito di fare scuola nello stesso modo. Ma la presenza fa la differenza. Poi la DAD per brevi periodi ha un bel valore. Per periodi così lunghi viene un po' meno. Io ieri ho fatto anche una comunicazione condivisa con lo staff, ai genitori e ai docenti per dire che si deve rientrare con tranquillità. Adesso le verifiche devono essere delle verifiche fatte per andare a vedere cosa si è appreso, i risultati di questa didattica a distanza e non come verifiche per valutare in maniera più pesante. Quindi spero che questo venga accolto da tutta la popolazione scolastica e si possa davvero procedere in maniera spedita verso la conclusione di quest'anno scolastico. Sul fronte della sanità invece quest'oggi è in programma un'importante riunione tecnico-operativa dove verranno programmate azioni e interventi concreti con individuazione della tempistica. A farlo sapere è stato il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che sul trasferimento di diabetologia dall'ospedale marino ai locali di via Manzoni che ha provocato diverse lamentele, sottolinea come sia stato concordato dai responsabili sanitari per via delle norme anti-covid che hanno sconsigliato la promiscuità di tale servizio con quell'ospedaliero proprio per non esporre a rischio i pazienti diabetici. Oggi i nodi della tavica mancata programmazione vengono al pettine e si devono sciogliere ha rimarcato Pais. Rimango costantemente in strettissimo contatto con la direzione del distretto con la dottoressa Porcu, dirigente medico diabetologia che molto si sta prodigando per il miglior servizio. Sul trasferimento di diabetologia nei locali di via Manzoni è intervenuta in questi giorni anche l'associazione Diabete Nord Sardegna che ha criticato la scelta intanto perché l'ex dispensario di via Manzoni è una struttura inadeguata a garantire il regolare svolgimento delle visite ma il centro diabetologico dell'ospedale marino era anche un punto di riferimento anche per l'esecuzione delle curve da carico glicemico spesso indispensabili nella diagnosi della patologia hanno rimarcato sempre dall'associazione. Giusto per rendere l'idea, in tutto il Nord Sardegna è diventato impossibile fare questa indagine se non presso laboratori analisi privati, anche tante gestanti non riescono ad effettuare una curva da carico e sappiamo che è un esame necessario che non può attendere per una gravidanza sana per la madre e per il bambino. Contro il trasferimento di diabetologia si erano espressi recentemente anche i gruppi consigliari di Forza Italia Udc e Gruppo Misto i circa 3.000 pazienti di diabetologia saranno costretti a recarsi presso la struttura di Mia Manzoni che destra qualche preoccupazione per l'idoneità ad accogliere pazienti ad alto rischio Covid avevano sottolineato in una nota e gruppi consigliari che sono reintervenuti proprio quest'oggi a maggior ragione dopo le parole del Presidente del Consiglio regionale. Ringraziamo il Presidente del Consiglio regionale Michele Paes che avvalora la fondatezza delle nostre preoccupazioni relative al trasferimento di diabetologia ma occorre un impegno ulteriore i gruppi consigliari di Forza Italia Udc e Misto intervengono a commento delle dichiarazioni della rete Sarda Diabete e dello stesso onorevole Paes che ritorna sul tema del trasferimento di diabetologia dal Marino presso i locali di Via Manzoni che i gruppi consigliari di Forza Italia Udc e Gruppo Misto lo scorso dicembre avevano definito inapropriati chiedendo un ripensamento e oggi questa scarsa appropriatezza viene ribadita dalla rete Sarda Diabete dal Presidente del Consiglio regionale. Da precisare che gli esponenti politici di Forza Italia Udc e del Gruppo Misto avevano espresso le medesime preoccupazioni per il trasferimento di oculistica al civile trasferimento che in seguito fu bloccato dalla ASL che fece responsabilmente un passo indietro. I consiglieri comunali continuano però a sostenere la necessità di un supplemento di riflessione sulla scelta di trasferire diabetologia presso i locali di Via Manzoni. La struttura di Via Manzoni presta il fianco a qualche dubbio confermato dall'onorevole Paes sull'idoneità ad accogliere pazienti ad alto rischio Covid quali possono essere definiti gli affetti da diabete. Crediamo sia utile che la ASL, alla quale riconosciamo il grande impegno in questo momento terribile per la sanità della provincia, faccia un supplemento di riflessione chiudono i consiglieri di Forza Italia, dell'Udc e del Gruppo Misto. Noi ci fermiamo ora per una pausa pubblicitaria tra poco con la seconda parte. Ci scusiamo per l'ulteriore rinvio al 4 febbraio e garantiamo la massima trasparenza della procedura dell'avviso a Sportello per la concessione di un'identità una tantum a favore degli operatori della filiera turistica del commercio e ci assumiamo la responsabilità del riferimento dell'apertura del bando. L'ha detto l'assessore regionale del lavoro, Alessandra Zedda durante una videoconferenza stampa sul bando. Il rinvio, ha spiegato l'esponente dell'esecutivo Solinas è dovuto ad un problema di natura tecnica in corso di risoluzione. Il fornitore esterno, un'azienda leader del settore che gestisce la piattaforma SIL, ci ha dato garanzie che il bando sarà attivo a partire dalle ore 10 del 4 febbraio. Nessun favoritismo, ha assicurato la Zedda. Il bando non è stato modificato per favorire qualche categoria ma il frutto di un confronto con i professionisti e le associazioni di categoria che hanno chiesto una maggiore semplificazione. Nessun'altra regione in Italia, ha fermato l'assessore del lavoro, ha messo in campo tante risorse per il sostegno alle imprese. A fronte dei sette avvisi ordinari, quest'anno i bandi sono stati 20 per un totale di 281 milioni di euro. In questa emergenza Covid, ha giunto la Zedda, la Giunta Solinas non lascerà nessun lavoratore al suo destino. L'Unione Europea per il 2021 ci permette di ampliare il regime di aiuto alle imprese. Come già accaduto per altri bandi, se le risorse non basteranno, ci sarà la possibilità di potenziare le risorse e soddisfare altre richieste. Ha poi concluso l'assessore regionale al lavoro. E ora parliamo invece dei lavori per la realizzazione della rete del gas che sono arrivati a circa il 75% del totale. Il primo importante traguardo del processo di ammodernamento infrastrutturale della città che sta comportando inevitabili fisiologici disagi e la viabilità è stato già raggiunto con l'avvio della distribuzione del metano nel quartiere della pietraia Lido. Il via alla prima parte della fornitura prevede che dalla stazione di stoccaggio di Ungias Galantè, dove è posizionato il carro cisterna, il metano possa arrivare inizialmente nelle case corrispondenti agli allacci della zona ma possa anche servire una più ampia utenza una volta ultimati i lavori. Gli scavi stanno ora per interessare questa settimana la via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra via 20 Settembre e via Montedoglia. Conseguentemente verrà istituito il divieto di transito e sosta integrato dalla zona a rimozione della fascia oraria 024. Alghero è attualmente la prima città in Sardegna a utilizzare il metano, la cui realizzazione è sostenuta da un investimento di 15,7 milioni di euro, un investimento fondamentale per Alghero che porterà inevitabili vantaggi per la qualità della vita, per l'economia e per le famiglie che potranno approvvigionarsi di energia pulita a basso costo, sottolinea il sindaco Conoci, ai disagi che sta creando ma ancora per poco la realizzazione dell'infrastruttura si sostituiranno i tanti aspetti positivi dell'opera. La previsione dei lavori prevede l'allestimento di altri due punti di stoccaggio del metano da dislocarsi in altre tante zone periferiche dalle quali il combustibile si diramerà per coprire l'intera rete. Restando in tema di lavori in città, domani è mercoledì, quindi 2-3 febbraio la via Vittorio Emanuele sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra la via Cravalet e la via Satta. La chiusura verrà dalle 7 alle 18 e comunque fino alla conclusione dei lavori previsti cioè quelli della realizzazione all'accio di una condotta idrica, uno stabile in via di realizzazione. Per tutta la durata dell'intervento il traffico veicolare su via Vittorio Emanuele verrà deviato su via Cravalet in arrivo e in via Satta in uscita. Parliamo però anche di strutture sportive cittadine, in particolare della pista di atletica di Maria Pia per la quale sono stati affidati i lavori di riqualificazione e messa a norma. Il procedimento è giunto in questi giorni alla fase della formalizzazione dell'esito della gara espletata dal settore opere pubbliche. I fondi da utilizzare per la messa a nuovo della pista, 350 mila euro provenienti dal bando Fondo Sport e Periferia al quale il Comune di Alghero ha partecipato con il progetto definitivo esecutivo del 2018 per i lavori previsti secondo le prescrizioni Fidalconi, dovranno rigenerare la parte dell'impianto sportivo destinato all'atletica all'interno del complesso polivalente. L'impresa che dovrà occuparsi delle opere, previa verifica nei termini di legge dei requisiti di ordine generale e speciale, è la CIS Costruzioni SRL di San Sperate, in avvalimento con Olimpia Costruzioni SRL di Forli. L'impianto comunale di Maria Pia, attualmente affidato in gestione, sarà quindi interessato da ulteriori interventi per la riqualificazione e ammodernamento più che mai necessari. Sul solco del programma di rigenerazione dei campi sportivi e per il tempo libero il programma dell'amministrazione procede con ulteriori tappe e di questi giorni la definizione di due procedure che riguardano altrettanti impianti messi a bando. Il campo da baseball di Maria Pia e l'impianto del tennis di via Tarragona. Per quest'ultimo si tratterebbe di un'importante svolta per la gestione del centro sportivo che comprende tennis e calcetto che andrebbe a integrarsi con la rinnovata gestione integrata del limitrofo Parco Tarragona, affidato anch'esso in questi giorni dal settore demanio e patrimonio. Speriamo non ci si dimentichi però anche dello stadio Mariotti. Per oggi è tutto, io vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.